Chi è la fidanzata di Ricky, Riccardo Marcuzzo? Sara, punto dopo il successo Ricky ha trovato anche l'amore Riccardo Marcuzzo, diventato famoso grazie ad amici, ha una nuova fidanzata. La giovane Sara I due si frequentano in gran segreto da due mesi e sono venuti allo scoperto grazie ad alcuni selfie postati sui rispettivi social network In realtà le fan più accanite del cantante, avevano già capito prima dell'ufficializzazione della coppia. Da settimane Sara si presentava a tutti gli appuntamenti pubblici dell'artista Voleva passare come una semplice sostenitrice di Ricky, ma agli occhi di tutti è subito apparso che c'era, e c'è tutt'oggi, molto di più da parte della ragazza Ed è quella di Riccardo che, come rivela il settimanale Spi, è innamorato pazzo della giovane Ma chi è la fidanzata di Ricky? Punto di domanda, punto Ricchi e Sara stanno insieme. I due sono innamorati pazzi La fidanzata di Ricky si chiama Sara, ha 22 anni e è di Milano. Non è chiaro se la giovane studia o lavora ma pare che abbia conosciuto Riccardo grazie ad amici in comune Per Marcuzzo si tratterebbe già di una storia importante, tanto da renderla ufficiale sui social network Un passo che qualche tempo fa non aveva compiuto con Ginevra, la fashion blogger che ha frequentato per un periodo È chiaro che la storia con Sara è decisamente diversa e Ricky è al settimo cielo. La giovane segue il fidanzato dappertutto, e a quanto pare sarebbe pronta a partire, anche per il Sud America pur di stare al suo fianco E sì, perché Ricky sta lavorando con il suo entourage ad un progetto che lo porterà nei paesi latini a cercare fortuna, sulle orme di Laura Pausini e Erros Ramazzotti Riccardo è pronto a sedurre nuovi pubblici con la sua musica, e a cantare in spagnolo Ricky tour sold out. Continua il successo di Riccardo Marcuzzo.In attesa di sbarcare in Sud America, Riccardo Marcuzzo è impegnato con il nuovo tour che lo sta portando in giro per l'Italia Un successo dietro l'altro, con la maggior parte delle tappe completamente sold out Grazie a tutti